Siamo qui con coach Salvatore Procopio. Coach, importante vittoria, confermato il primo posto in classifica, quali sono i suoi commenti a caldo? La partita è un po' strana, è iniziata molto male e poi nel secondo quarto siamo riusciti un pochino a fare le nostre cose e poi nel terzo quarto abbiamo difeso un pochino meglio, qualche canestro in più in attacco e la partita è scivolata via, non dico con tranquillità, però probabilmente quello che rimane di una partita come questa sono solamente i due punti e onestamente oggi la squadra non mi è piaciuta. Però ci prendiamo questi due punti, giocavamo in casa ma in un campo neutro e chiaramente il peso di non giocare sul nostro campo si avverte, è una condizione che molto probabilmente pagheremo anche per le prossime partite. Dove vuole arrivare Catanzaro? Intanto Catanzaro vuole vincere, nel senso vuole vincere le partite, poi se la risultante di più vittorie ci porterà a fine campionato ad essere primi saremo ben felici. Non era nei programmi assolutamente quello di vincere il campionato, è una squadra giovane, giovanissima, tranne un paio di giocatori anziani che però tutti stanno crescendo, stanno dando il loro contributo. E' chiaro poi l'apelito viene mangiando, nel senso che ci piace giocare, ci piace vincere e se ci troviamo nelle condizioni di poterlo fare anche la vittoria finale non ci tireremo indietro. Ottima prestazione di Perez Darold, qual è il contributo che sta dando a questa squadra? Quanto è importante per voi? Federico è iniziato in sordina nelle prime giornate di campionato, ma adesso è cresciuto in maniera esponenziale, nel senso che le ultime due settimane ha avuto qualche acciocco fisico, già è stato in campo a marce ridotte. Il contributo di Federico è quello di avere un secondo playmaker in campo, nel senso che è un giocatore che ha grandi qualità offensive, non solo nel fare canestro ma nel fare assist, passaggi importanti ed è anche un buon difensore, nel senso che quando viene sollecitato a sufficienza diventa un ottimo giocatore, un ottimo tassello per la nostra squadra.